Quante volte hai impiegato giorni per caricare foto e video della tua vacanza su un drive? O quante volte hai cercato di spostare il file del lavoro su un cloud ma era pieno? I problemi sono due. La velocità di upload e lo spazio di archiviazione disponibile. Immagina di poter salvare qualsiasi cosa alla massima velocità in uno spazio senza limiti. La soluzione è una fibra potente e stabile in un solo drive semplice e limitato. Aruba Fibra con Drive. Carica, scarica, condividi, collabora, copia e sposta a gran velocità e in sicurezza. Perché i tuoi dati sono protetti e gestiti sui server di Aruba. In data center proprietari in Italia. Aruba Fibra e Aruba Drive. Convenienza e velocità in uno spazio illimitato. Aruba Fire. Grazie a tutti.